Vado a ritirare il GS in officina, per chi non lo sapesse era in assistenza per problemi elettrici ma mi hanno già accennato che si trattava di una banalità La moto è guarita, è tornata a casa e come preannunciato il problema era banale, vi faccio vedere Innanzitutto ricordo che non funzionava più tutto il blocchetto elettrico di sinistra quindi compreso il rotellone, tutti i tasti, insomma, nelle frecce, nel claxon, nel cruise control All'interno del blocchetto elettrico si era allentato un connettore di questo cavo Adesso non vi so dire se è questo o questo Comunque all'interno c'è un connettore, questo connettore si era un po' allentato e quindi non funzionava più il blocchetto elettrico Inoltre mi hanno fatto un aggiornamento completo del software del TFT e finalmente è totalmente scomparso quell'odioso messaggio della limitazione del funzionamento del sistema SOS Qui il quadro normale, andiamo all'interno del menu Tra 6.000 km o il 4 aprile 2025 devo fare il prossimo tagliando ma non ci sono più messaggi d'errore In tutto questo ringrazio sentitamente la concessionaria Lario Bergauto di Berbenno in Valtellina che per sistemare il connettore e per l'aggiornamento del software mi hanno fatto pagare la bellezza di un fico secco Tutto gratuito Mi hanno detto che il problema del connettore l'hanno risolto in meno di un minuto L'aggiornamento del software era comunque da fare quindi previsto dalla casa madre e quindi mi hanno fatto andare con una stretta di mano Grazie 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 Grazie